Che sta succedendo Jimmy? Non lo so ma è regolare Stallone, sorvegliato speciale Da quel carcere di massima sicurezza è impossibile fuggire Dopo 5 anni di galera Frank vieni fuori Ancora solo 6 mesi da scontare Al centro e faccia avanti Per il ciclo nel segno di Sly Vieni leone, sei stato trasferito Io non ho fatto niente Benvenuto a Gateway leone Io so solo che devo scontare ancora 6 mesi e basta A Gateway 6 mesi possono valere una vita Può succedere di tutto Questo è carcere duro Frank Non hai nessun diritto se non te li concedo io Non proverei nessun piacere nella tua permanenza Qui questo è l'inferno Donald Sutherland, Sylvester Stallone Sorvegliato speciale Venerdì alle 21 con Iris Che sta succedendo Jimmy? Non lo so ma è regolare Stallone, sorvegliato speciale Da quel carcere di massima sicurezza è impossibile fuggire Dopo 5 anni di... Che sta succedendo Jimmy? Non lo so ma è regolare Stallone, sorvegliato speciale Da quel carcere di massima sicurezza è impossibile fuggire Frank vieni fuori Che sta succedendo Jimmy? Non lo so ma è regolare Stallone, sorvegliato speciale Da quel carcere di massima sicurezza è impossibile fuggire Dopo 5 anni di galera Frank vieni fuori Ancora solo 6 mesi da scontare Al centro e faccia avanti Ehi, avete sbagliato persona Prendetelo Ma perché? Che sta succedendo Jimmy? Non lo so ma è regolare Stallone, sorvegliato speciale Da quel carcere di massima sicurezza è impossibile fuggire Dopo 5 anni di galera Frank vieni fuori Ancora solo 6 mesi da scontare Al centro e faccia avanti Ehi, avete sbagliato persona? Prendetelo Ma perché? Non ho fatto niente Ma col favore dell'oscurità È sotto la nostra custodia Sei stato trasferito Ma io non voglio morire Ehi! Quando la libertà è ormai vicina Un personaggio del suo passato Lasciatemi! Sta per rimettere indietro Le lancette dell'orologio Bentornato a Gateway, leone Quanto può resistere un uomo? Quante provocazioni può sopportare Prima di rispondere con la violenza Alla violenza Tallone Sorvegliato speciale Per il ciclo Nel segno di Sly Vieni, leone Sei stato Che sta succedendo, Jimmy? Non lo so, ma è regolare Tallone Sorvegliato speciale Da quel carcere di massima sicurezza È impossibile fugire Dopo cinque anni di galera Frank, vieni fuori Ha ancora solo sei mesi da scontare Al centro e faccia avanti Ehi, avete sbagliato persona Prendetelo Ma perché? Non ho fatto niente Ma col favore dell'oscurità È sotto la nostra custodia Sei stato trasferito Ma io non voglio morire Ehi! Quando la libertà è ormai vicina Un personaggio del suo passato